Bitcoin inizia la settimana con una fase di leggera presa di profitto, un tampone che avviene all'apertura dei mercati asiatici, cioè intorno alle 2 e alle 3 del mattino l'aria italiano e in pratica inizia male un po' la giornata con questa fase dump che tra le altre cose comunque va a confermare la candela di raggiungimento del massimo con un max sui prezzi di Bitstamp in questo caso a 31.000 dollari. E' iniziata una fase di ribasso prolungato, che cosa sta facendo, quali tipi di analisi ragazzi ho fatto proprio in questi giorni per capire un po' l'andazzo di questa settimana e che cosa Bitcoin potrebbe andare a fare. Ho un'idea molto chiara che ovviamente deve essere confermata dal mercato, vi ricordo che non è che prevediamo il futuro, però la vediamo oggi proprio in questo video andando a analizzare come sempre quelli che sono i dati di natura di analisi tecnica e di analisi ciclica. Poi vediamo anche quelle che sono le analisi relative alle news che in questa settimana potrebbero impattare, sono poche già a dirvi la verità, solo un giorno pochettino e poi vorrei fare una, vorrei diciamo ragione su una cosa insieme. E poi vediamo un po' le attese per quanto riguarda maggio, rialzo dei tassi, non avviene più il rialzo dei tassi, non facciamo più il rialzo dei tassi, sì, ancora sì, ancora no. E poi ho dei grafici, prettamente, relativi all'analisi on-chain di Bitcoin, il rialzo della difficulty e quindi della sceletti Bitcoin non è mai stato così alto. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, vediamo subito quelli che sono questi grafici, ragazzi, iniziando un po' dall'analisi tecnica di questa zona di massimo per quanto riguarda Bitcoin, che ha disegnato un pattern di analisi tecnica abbastanza comune, cioè la fase di rialzo che viene bloccata da una candela di forte indecisione con una shadow al rialzo molto pronunciata che vedete qui e poi immediatamente dopo una shadow anche al ribasso che era questa zona qui e poi la close identica in pratica all'opening. Quindi corpo piccolo, shadow pronunciate, up e down. Dopodiché giorno successivo, inside, candela inside rossa, candela inside verde, tampone, break dei minimi e completamento di questa figura di inversione che in pratica inizia qui e poi se ne viene in questa zona. In sostanza, il livello di supporto che in questo momento Bitcoin deve mantenere o dovrebbe mantenere è intorno ai 29.500-29.600, cioè il minimo dell'inizio di questa struttura di curva di inversione. Al di sotto abbiamo poi le mie due medie mobili che fungono da supporto per quanto riguarda Bitcoin, ma l'ultima è un po' di stantina perché ai prezzi di oggi sta intorno ai 28.900. Quindi sostanzialmente questa zona supporto, questa zona supporto, al momento l'inversione è del trend rialzista dei giorni scorsi, non è un'inversione importante poiché il mercato potrebbe semplicemente essersi chiuso nell'ennesima barra di congestione come ha fatto poi qui, vedete, in questa zona. Però ovviamente monitoriamo questa cosa perché come vi dicevo la scorsa settimana un po' i giochi sono fatti, da un punto di vista temporale andiamo verso un'area di massimo che è quella di aprile-maggio, quindi queste zone devono essere poi monitorate per comprendere un po' l'operatività per chi come me magari e altre persone da novembre sta galoppando questo trend, è arrivato il momento di tirare nei miembarchi e io non prendo mai take profit perché sono un trend follower ragazzi, quindi utilizzo sempre esclusivamente il trailing stop in questo tipo di strategie perché sono strategie di lunga portata, quindi non voglio uscire da un mercato a una minima inversione, non mi interessa una cosa del genere non prendo il massimo, questo è ovvio perché non metto il take profit però in sostanza questo tipo di strategie preferisco gestire così perché sono strategie quelle per hold, cioè mi interessa stare il più possibile sul mercato poi seguo delle macchine, dei train system che mi danno dei segnali di uscita quando i rischi aumentano tantissimo che sono ovviamente pubblicati in academy ragazzi, ho tutto quello che dico, tutto quello che vi dico qui in academy lo faccio materialmente quindi è visibile anche lì per tutti i trader, alcune volte magari mi chiedete però poi non dici le cose, cioè io qui vi do una imparinatura generale ragazzi per ovvi motivi non si può ragionare in termini di consigli finanziari, lo sapete, non è possibile però poi quello che dico lo faccio diciamo dal vivo, quindi pubblico lì allora qui invece passiamo all'analisi dei dati che possono uscire e che possono impattare con la volatilità di questa settimana che secondo me non sono poi tantissimi, cioè dopo quelle che sono state la settimana dei earnings sulle aziende insomma secondo me da un punto di vista di volatilità questa settimana ha soltanto una news almeno in termini di news parliamo al momento, cioè l'IPC dell'Europa che sapete bene ha una bassa propensione a dare una grande spinta però c'è da dire che questo dato è previsto identico al precedente quindi magari qui uno shock con un dato inferiore intorno magari al 5 e 8 per esempio quindi un punto in meno potrebbe in effetti dare un impatto di spinta al mercato questo sicuramente sì, anche perché impatterebbe con la questione legata al cambio euro-dollaro perché un IPC europeo più basso delle attese presuppone che l'Europa magari inizierà ad allentare il rialzo dei tassi non abbassare i tassi però allentare il rialzo dei tassi perciò magari l'equilibrio euro-dollaro che adesso ha raggiunto di nuovo un 1.10 potrebbe risentirne di conseguenza anche per una questione tecnica i prezzi di bitcoin, delle cripto e degli asset in dollari potrebbero subire delle modifiche soprattutto quelli delle cripto perché sono prezzati diciamo anche per sostenere delle quotazioni in euro quindi questa cosa la possiamo guardare da questo punto di vista poi abbiamo la richiesta di sussidi di disoccupazione degli Stati Uniti che però ancora una volta è previsto identico al precedente quindi shock da questo punto di vista non me ne aspetto quindi non dovrebbero esserci oggettivamente grandi modifiche per quanto riguarda la questione dei dati di questa settimana tanto è vero che anche per il FONC previsto a maggio tra 16 giorni circa gli investitori istituzionali stanno in ogni caso scontando un ennesimo rialzo dei tassi che porterebbe il tasso di interesse al 5% 5,25 secondo me concludendo il quadro generale della fase rialzista dei mercati poi vedremo le previsioni posto questo rialzo dei tassi ragazzi ma in linea di massima dovremmo esserci quindi con quelli che hanno i piani tra le altre cose anche della Fed che sono stati rispettati alla perfezione maggio 2023 5,5,25 e stop del gioco poi si erano mantenuti un po' no? la forchetta di 1,025 in più o in meno giustamente però sembra che in questo caso tutto è andato secondo quella regola quindi se l'infrazione continuerà a ridursi anche quest'anno diciamo alla fine dell'anno allora ci sarà questa cosa volevo farvi presente una cosa ragazzi che non stiamo valutando lo scorso anno anche in Europa il tasso di infrazione è stato più o meno dell'11-10-11% anche in Italia quest'anno sarà intorno al 6-7% ragazzi in due anni in pratica i prezzi sono aumentati del 15-18% ancora non sappiamo appunto dove finiremo ciò significa che da un punto di vista pratico il debito pubblico di ogni Stato è teoricamente sceso in termini reali del 18% questa cosa qui un po' forse è poco considerata e soprattutto un po' ha messo in me anche la pulce nell'orecchio quanto questa cosa dell'inflazione questo giochino tra virgolette è stato un po' forse anche voluto per abbattere la quantità di debito in termini di beni reali ragazzi perché il debito pubblico si misura in totale nominale però se io quella valuta la svaluto poi quel debito pubblico in termini di beni prodotti cioè telefoni insomma cibo tonno scatolette di tonno è di meno in termini reali quindi in sostanza ho abbattuto in ogni caso il debito pubblico questa cosa ha danno di chi? delle persone che hanno un reddito fisso ovviamente che non possono modificare la leva del prezzo del loro reddito perché hanno subito totalmente il rialzo dei prezzi e dell'inflazione e questa coperta sempre corta dell'economia un po' mi ha fatto riprendere cosa ne pensate voi di questa cosetta qui? qualcuno di voi che magari è esperto nell'ambito macroeconomico scrive nei commenti magari qualcosa che riusciamo a ragionarci insieme magari perché no tirar fuori un video interessante a questo punto di vista che è molto complesso fatemi sapere anche voi cosa ne pensate va bene detto questo vi faccio vedere poi il grafico di cui parleremo tra pochissimo che è un grafico di breve che riguarda il ciclo settimanale di bitcoin quindi si passa all'analisi ciclica perché questo è quello che io sto facendo proprio e sto monitorando per questa settimana però vi faccio vedere anche un ultimo dato tecnico che è quello relativo alla difficoltà di bitcoin che raggiunge nuovi massimi storici insieme al suo hash di potenza quindi il network di bitcoin è la blockchain di bitcoin sempre iperattiva nonostante la fase attuale guardate le ultime impennate della difficoltà 1, 2, 3, 4 questa mi ricorda ampiamente i miei periodi tantissimi anni fa ragazzi quando avevo le cloud mining allora si potevano avere e quando vedevo questa difficulty salire ovviamente piangevano perché le cloud mining o i miner che avevamo in casa i tempi insomma producevano di meno perché la difficulty saliva quindi ogni volta che saliva la difficulty era un dramma per i miners ragazzi ma il protocollo di BTC l'algoritmo di BTC ha un aggiornamento di questa difficoltà ogni 14 giorni quindi ovviamente sale in automatico e non ci puoi fare niente se la potenza sale quindi questo rialzo indica in pratica che la shrate continua a salire guardate il rialzo costante degli etash di potenza di Bitcoin che indica sempre e comunque un interesse fondamentale importante strutturale sotto il re delle criptovalute ragazzi non è un investimento che si può fare così con quattro soldi una cosa del genere prevede comunque qualche milionata con un break even di 3-5 anni per chi fa il mining quindi insomma capite bene queste sono strutture di analisi fondamentale che indicano che Bitcoin è comunque ancora ritenuto un asset forse ancora non sviluppato appieno che quindi ha ad alto potenziale e questo è molto bello andarlo a guardare anche dalle fondamenta proprio di Bitcoin stesso se no che poi un giochino classico il fear and greed cioè l'index che ci dà una informazione sul fatto se siamo in una specie di euforia generale in realtà ragazzi non è né euforia né pessimismo il pessimismo era qui però un po' verdino siamo arrivati quindi nella sfera del grid ci siamo da qualche mesetto a dire la verità però non siamo andati proprio in bolla in euforia questo radice lunga anche sulla fase attuale che anche se secondo me ha raggiunto magari un'area di topping in termini di ciclo e lo vediamo tra poco c'è anche da dire che comunque l'enfasi che c'era stata nel 2021 non è mai avvenuta non è mai non è mai avvenuto un ritorno di quella fase di bolle e un po' ancora siamo vediamo un po' di lontananza al mondo delle cripto che non sono più magari non rappresentano diciamo l'argomento del momento e questo è buono perché significa che ancora c'è tanto da fare perché quando arriveremo a quella fase un po' la preoccupazione salirà da sotto perché siamo un poco arrivati va bene detto questo passiamo al grafico che volevo fare vedere oggi cioè quello che io sto seguendo in termini di analisi ciclica per quanto riguarda la settimana in sostanza una struttura settimanale che deve chiudere con un orizzonte temporale tra domani e dopo domani ragazzi questa zona qui che vi riporto con questa lineetta deve chiudere una struttura ciclica che viene definito ciclo settimanale che teoricamente bitcoin potrebbe anche fare al ribasso portando i prezzi quindi anche vicino i livelli che vi ho fatto vedere precedentemente di supporto cioè questa zona di 29,6 barra 29 quest'area qui questa zona interna perché questo perché potrebbe essere in una fase che ciclicamente viene definita chiusura di un ciclo mensile lungo o meglio di una metà di ciclo trimestrale un trimestrale classico di bitcoin è un ciclo intorno agli 80-90 giorni a volte ragazzi cosa succede su questi cicli dovete sempre mettere un tot di volatilità quindi noi ne parliamo però se non sapete utilizzare la ciclica sarete un po' confusi vi sembrerà di parlare del nulla perché sostanzialmente è molto molto varia quindi un ciclo trimestrale può durare anche 70 giorni oppure 90 quindi ci sono 20 giorni di differenza dovete saper utilizzare quindi prendetele per buone le cose che vi dico ovviamente io nel corso basic ho fatto un modulo dedicato alla ciclica ho spiegato come si usa moltissimi di voi sono però diventati già esperti a prescindere in questi anni da quando ne stiamo parlando non ho letto tanto quindi mi capiscono perciò magari chi non ha ancora pagare quella in azione abbia il beneficio del dubbio perché molti qui sul canale sono molto bravi in ciclica e quindi io parlo anche un po' per tutti e non posso sempre essere iper basic quindi questa cosa qui ragazzi funziona in questo modo probabilmente bitcoin sta andando in una fase di close di questa struttura trimestrale a metà struttura trimestrale che è iniziata certamente questo lo sappiamo il 10 di marzo è il 10 di marzo che teoricamente vedete qui in questa zona sta per fare i suoi 38-40 giorni quindi 40 giorni sono sufficienti a chiudere una metà di questo trimestrale se poi questo trimestrale continuerà e arriverà in questa area che io vi ho già disegnato vedete l'area che teoricamente inizia ad essere un'area di possibile fase di chiusura quindi di un swing al ribasso un po' più pronunciato che va appunto da questa zona 60 e qualcosa 70 a 80 e qualcosa quindi un'area temporale che è quella che sto monitorando ora mi aspetto che magari se questa struttura ciclica sia standard la fase di rimbalzo dopo la close di questa fase che se è veramente la metà dovrebbe durare poco potrebbe portare poi ai massimi di periodo prima della chiusura vera di questa zona questa è la mia idea generale la pista che sto seguendo l'idea che sto seguendo ovviamente sono un trend follower e lo ripeto ragazzi se i mercati si modificano in rotta durante la rotta io modifico tutte le analisi perché è l'unico modo gli analisti questo fanno non prevedono il futuro e seguono ciecamente come degli assini ragazzi ma stanno giorno su giorno settimana su settimana in questo caso ad analizzare i mercati per vedere se rispettano quella view se non la rispettano ci sono le vie di fuga i piani B il secondo piano il terzo piano ma comunque anticipiamo il mercato ragazzi che è quello che poi ci interessa in questa parte va bene detto questo la struttura che sto seguendo questa settimanale mi dà una indicazione di chiusura di questo ciclo settimanale che dovrebbe essere ribassista quindi un ciclo settimanale di 6 barra 7 6-8 giorni circa vedete questo è stato 8 e 22 per esempio io qui l'ho posizionato a 6 giorni e mezzo e dovrebbe teoricamente portarci a un minimo in una zona di mercoledì se fa una cosa del genere è mercoledì mattina però ragazzi quindi è tra martedì sera e mercoledì la mattina presto insomma eccetera se fa una cosa del genere è interessante perché potrebbe poi da qui iniziare appunto come vi dicevo la seconda fase di questo ciclo di maestrale quindi una fase di attesa e riflessione ma allo stesso tempo un po' con i fucili spianati perché se dovesse effettivamente arrivare là a quei livelli poi io un tentativo di buy per la gestione della parte finale della settimana ovviamente sempre aspettando un'inversione di trend sui time frame inferiori da trader ragazzi e ve lo ripeto ma comunque lo dirò se lo facciamo poi su youtube la penserò ok diciamo così ovviamente non sono consigli finanziari e se non avete le basi da trader queste cose non dovete farle quindi guardate questi video per apprendere magari eccetera però poi state ovviamente cercate di capire i ragionamenti che sono la cosa più importante piuttosto che cercare di emulare e copiare che assolutamente è sbagliato va bene detto questo buon inizio settimana a tutti e ci vediamo nel prossimo video e ci vediamo